ma magari sono io che non lo so dei formaggi ah c'è ancora una ultimo strato ultimo strato ci siamo che cazzo fai dai andiamo no allora innanzitutto e venivano portati fuori e portavano fuori il materiale naturalmente questa non è storia riempita ma è storia recente con i soci pigamini ha continuato ad essere impiegato negli ambienti ecco vedete un tipo di lavorazione diversa si vede dalla superficie della galleria vedete qual è un'altra tecnologia di scavo che non è quella ad esempio la dinamite esplosione la dinamite non è un'altra cosa di più non è un'altra cosa di più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti